La TGR Puglia è accusato di aver fornito documenti falsi alla cellula di terroristi che assaltarono il Bataclan a Parigi nel 2015, il 36enne algerino fermato in carcere a Bari. Ora gli inquirenti dicono la città è sempre più punto di passaggio di estremisti islamici verso l'Europa, il servizio di Rosa Vitarelli. Una cellula ancora attiva legata all'isis, tanto che Atame Tuami, 36 anni, di origine algerine, cercava adepti anche mentre si trovava recluso a Bari nel centro per i respingimenti. Ci sono delle registrazioni che ci dimostrano che il nostro fermato avesse tentato di far ascoltare, ha fatto ascoltare delle fattue anche ad altri soggetti presenti nello stesso modulo abitativo dove lui era collocato e quindi evidentemente ha cercato in qualche modo di fare proselitismo. Lui e i suoi due fratelli erano specializzati tra la Francia e il Belgio nel fornire documenti falsi ai terroristi, ricostruisce la DDA di Bari, così avrebbero aiutato anche i killer degli attentati di Parigi del 2015, dalla strage del Bataclan a quella di Charlie Hebdo. Era arrivato dalla Francia in Italia nel 2018, trovato con documenti falsi alla frontiera, mandato nel CPR di Bari. Poi l'arresto, la condanna a due anni per detenzione di documenti falsi, una pena che stava per finire a giugno. Ma nel frattempo la DIGOS di Bari aveva trovato le prove della collaborazione con una rete internazionale di terroristi. Il luogo in cui venivano stampati questi documenti c'è fuori una stamperia in Belgio e al cui interno sono stati trovati documenti di soggetti che hanno partecipato agli attentati in Francia nel novembre del 2015.